100 notizie Brindisi, un cordele a salute ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione della telegiornale. Subito uno sguardo al bollettino che è stato diffuso ieri dalla regione Puglia a proposito di Covid-19 per i dati aggiornati perché su 13.376 test che sono stati effettuati, 1.180 sono risultati positivi, quindi a livello regionale un numero che è in decrescita. 159 invece dei nuovi positivi riguardano il territorio della provincia di Brindisi, un numero che resta alto sul fronte dei decessi. 24 si sono registrati a livello regionale, 1 in provincia di Brindisi. Per tutti gli aggiornamenti però come ogni mercoledì c'è il report che è stato diffuso dall'asla di Brindisi. Vediamo quali sono allora i numeri in termini di nuovi positivi e di tamponi che sono stati effettuati. Positivi e tamponi nella provincia di Brindisi. Dall'aggiornamento settimanale dei dati sull'emergenza Covid-19 nell'ultimo report della ASL alla data del 18 aprile, nel territorio provinciale risultano positivi 1.612 soggetti di cui 836 donne e 776 uomini con età media di 47 anni. I positivi sono così suddivisi per fasce di età 229 nella fascia fra 0 e 18 anni, 1.069 fra 19 e 64 anni, ancora 212 fra 65 e 79 anni, 102 negli 80 e oltre. L'ultimo aggiornamento sullo stato di salute degli attuali positivi descrive 671 soggetti, 41,6%, asintomatici, 642 invece pauci, sintomatici e via discorrendo. Per quanto riguarda la distribuzione per comune i positivi sono 349 a Brindisi ma i comuni della provincia con maggiore valore di incidenza accumulativa sono nell'ordine Torre Santa Susanna, Brindisi, Ceglia Messapica, Villa Castelli, Oria e Fasano. Nella periodo compreso fra il 24 febbraio 2020 e il 18 aprile scorso sono stati sottoposti a tampone molecolare per la ricerca del Covid-19 100.022 residenti nel territorio provinciale pari a 256,2 soggetti ogni 1.000 residenti. Dei soggetti sottoposti a tampone molecolare 16.079 pari al 16,1% sono risultati positivi al test. Infine il tasso di letalità è pari all'1,9% inferiore al corrispettivo tasso pugliese del 2,5%. Un dato che riguarda la comune di Mesanni, emergenza epidemiologica, la situazione peggiora destando grande preoccupazione, lo ha scritto ieri il sindaco Tony Matarrelli, su Facebook. A Mesanni si contano 27 nuovi casi, un dato che dall'inizio della pandemia non si era mai raggiunto, sono 7 guariti. Sale a 100 il numero delle persone attualmente positive, 5 di queste in ospedale, di cui 2 in condizioni critiche. Ho nel frattempo sentito il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASDA, prosegue ancora Matarrelli, per confrontarmi sulle possibili cause dell'incremento dei contagi. Si tratta di numeri importanti che potrebbero non rappresentare un'eccezione. In queste ore la ASL sta monitorando i nuovi focolai di Covid-19 in giornata, quindi oggi il sindaco di Mesanni ha anticipato che terrà una diretta video per fornire informazioni e consigli utili per gestire questa fase delicata. Sul fronte delle vaccinazioni invece per gli over 80, al fine di terminare le vaccinazioni relative alla fascia di età maggiore o uguale agli 80 anni, sono state aperte. Ulteriori disponibilità nelle sedi vaccinali di Brindisi, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Mesagno Ostuni, San Pietro Vernotico. Notizie che giungono dall'ASL di Brindisi. Per prenotare si possono utilizzare diversi canali, e cioè le farmacie, durante l'orario di apertura, ma anche il numero verde 800-888-388 attivo solo da rete fissa, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, sabato e domenica invece dalle 14 alle 20. Ancora il numero fisso 080-91-81-603 attivo da rete fissa e da cellulare, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, sabato e domenica sempre dalle 14 alle 20. E poi il portale Puglia Salute al menu servizi online. Approfittiamo per ricordare che questa sera ritorna a Palazzo Nervegna e che ritorneremo a parlare della situazione Covid-19 nel territorio della provincia di Brindisi. Ospiti saranno il direttore generale dell'ASL Giuseppe Pasqualone, ma anche Pietro Gatti, direttore di medicina interna dell'ospedale Perrino di Brindisi e Michele Lisco, responsabile della campagna vaccinale per quanto riguarda i medici di medicina generale che in questa fase soprattutto hanno un ruolo cruciale nella gestione della vaccinazione, ma anche della stessa pandemia. Ora invece cambiamo argomento. Buone nuove per quanto riguarda il porto di Brindisi sul parcheggio dei tir a Costa Morena in maniera specifica, perché questa mattina è stato sottoscritto un protocollo di intesa fra l'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale, il comune di Brindisi e l'ASI. Sentiamo allora cosa cambia. Porto di Brindisi, sottoscritto un protocollo di intesa fra l'autorità di sistema portuale, comune di Brindisi e ASI per la doppia cessione di un terreno comunale al consorzio e di aree di proprietà dello stesso all'ente portuale. Si tratta dell'area parcheggio dei tir che si trova a Costa Morena al ridosso del terminal passeggeri. Obiettivo rendere gli spazi fruibili e sicuri per chi è in attesa di imbarco dal porto di Brindisi. Il documento prevede la cessione a titolo definitivo entro il 30 maggio di un terreno comunale circa 7.600 metri quadrati al consorzio ASI di Brindisi per un importo di circa 283.000 euro. Inoltre l'ASI si impegna a stipulare con l'autorità di sistema un preliminare di compravendita dell'area acquistata dal comune e di altri terreni già di proprietà dell'ASI proprio in prossimità di varchi di accesso in porto per una cifra che supera di poco un milione di euro. L'ente portuale pertanto acquisisce complessivamente aree per una superficie di oltre 34.000 metri quadrati. Dopo l'acquisizione l'ASI dovrà infrastrutturare le aree mentre l'autorità di sistema dovrà organizzarle affinché possano essere fruibili e sicure per tutti. Per essere competitivi bisogna rinforzare l'accoglienza di passeggeri e mezzi in arrivo nel porto di Brindisi ed efficientare i controlli di security e doganali sia per i passeggeri Schengen che extra Schengen, commenta il presidente Patroni Griffi che, notizia di queste ore, sarà riconfermato alla guida dell'ente per i prossimi quattro anni. Oltre a rendere i controlli più spediti e sicuri, agevolando il lavoro delle forze dell'ordine, offriremo a chi arriva e a chi parte dal nostro porto un sistema di accoglienza decoroso dotando la città di un'area parcheggio enorme, un polmone supplementare e attrezzato nel quale gli autotrasportatori avranno un ricovero protetto consentendo la riduzione della circolazione dei mezzi pesanti. Prosegue. Vogliamo portare a Brindisi il sistema orbitale di stazioni passeggeri in cui le funzioni gestite dalle agenzie, biglietterie e carte d'imbarco siano separate dai controlli di frontiera che necessariamente devono svolgersi sotto banchina. Si tratta, conclude Patroni Griffi, di un modello che abbiamo già sperimentato con successo a Bari. Contratto istituzionale di sviluppo, il cosiddetto CIS per Brindisi, c'è un intervento da parte di Fratelli d'Italia, in particolare di Massimiliano Giano, capogruppo, e di Cesare Mevoli, commissario cittadino della partito. Lo avevamo abbondantemente previsto in tempi non sospetti che il contratto istituzionale di sviluppo per Brindisi avrebbe potuto rappresentare l'ennesimo annuncio di un governo nazionale, un divago. Ricordiamo ancora le varie conferenze stampa dell'ex ministro per il Sud, Lezzi, con il sindaco Rossi, il presidente della regione Emiliano, che annunciavano 250 milioni di euro di investimenti per Brindisi in opere che riguardavano la rigenerazione urbana, ecologica, economica, sociale e culturale, insomma interventi, a detta del sindaco, che avrebbero cambiato il volto della città e l'economia della stessa. È stato subito chiaro, tuonano da Fratelli d'Italia, che Rossi e la sua amministrazione avevano preparato la cosiddetta lista della spesa di interventi senza una visione organica di progetto della città. Così come era chiaro sin dall'inizio che una ferma e decisa volontà politica di sottoscrivere, ma soprattutto finanziare il CIS Brindisi, non è mai emersa con decisione. Ma la cosa davvero singolare, proseguono ancora Ogiano e Mevoli, è che sono passati quasi due anni da quando si parla di CIS e più di due mesi da quando si è insediato il governo Draghi ed è cambiato il terzo ministro del Sud, ora la Carfagna, ma ancora non vi è traccia del contratto. In sostanza abbiamo assistito ad un film con una sceneggiatura già scritta. La speranza, concludono Massimiliano Ogiano e Cesare Mevoli, è che il sindaco Rossi faccia sentire la sua voce al nuovo ministro del Sud, Mara Carfagna, di Forza Italia e che la stessa riesca dove gli altri hanno fallito. Verde e decoro pubblico, proseguono gli interventi nella città di Brindisi, è in corso la pulizia dell'area verde antistante il monumento al marinaio d'Italia. Sentiamo l'intervento dell'assessore Oreste Pinto. Continuano gli interventi di decoro urbano e manutenzione del verde pubblico eseguiti dagli operatori di ecotecnica e Brindisi Multiservizi, su direzione dell'ufficio tecnico e dell'assessorato all'ambiente. Così l'assessore al verde pubblico, parchi, giardini e aree protette Oreste Pinto. Spesso si tratta di operazioni ordinarie e spiega come la deblattizzazione della rete di deflusso delle acque eseguita stamattina, oppure come la raccolta delle troppe deiezioni canine esistenti in città. Sono interventi giornalieri che passano quasi inosservati, ma l'auspicio è che non passi inosservata la loro rilevanza sotto il punto di vista del decoro urbano, della sicurezza e della salute pubblica. Altrettanto spesso, invece, prosegue Pinto, gli interventi sono più pesanti e si inseriscono nel novero di operazioni volute dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza nel più breve tempo possibile la piena e sicura fruibilità degli spazi verdi della città. In questo contesto, puntualizza ancora Brindisi Multiservizi ed Ecotecnica, hanno eseguito questa mattina interventi di pulizia, decoro e riqualificazione dell'area verde, antistante il monumento al marinaio d'Italia. È l'operazione che conclude gli interventi di riqualificazione ambientale dell'area verde prospicente il porto di Brindisi, di pertinenza del quartiere Casale. Il ripristino del decoro del verde pubblico proseguirà ancora, interessando tutti i quartieri della città, la frazione di Tuturano e la Litoranea. Domenica 25 aprile con inizio alle 10.30 si svolgerà a Brindisi in Piazza Santa Teresa la cerimonia commemorativa del 76esimo anniversario della liberazione organizzata dalla Prefettura di Brindisi in collaborazione con il Comando Brigata Marina San Marco ed il Comune. La manifestazione per le limitazioni previste dall'emergenza pandemica si svolgerà in maniera sobria con l'alza bandiera e la deposizione della corona di alloro presso il monumento ai caduti alla sola presenza delle massime autorità e senza la partecipazione di pubblico per evitare forme di assembramento che sono vietate dalle disposizioni che regolano la zona rossa. Seguirà in piazzetta Sottile De Falco l'omaggio alla memoria dei caduti della resistenza promosso dal Comitato Provinciale Ampi di Brindisi. Teatro, musica e spettacolo. Oltre 3 milioni di euro per gli operatori dello spettacolo appunto dal vivo. Tanto ha deciso la Giunta regionale pugliese. Sentiamo quali sono le dichiarazioni e le valutazioni dell'assessore Massimo Brai. È stata approvata dall'Aggiunta regionale l'assegnazione di risorse per complessivi 3 milioni 570 mila euro in favore degli operatori pugliesi riconosciuti e finanziati negli anni dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia in quanto eccellenza nella produzione teatrale, musicale e coreutica. Inserita a pieno titolo nel piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della cultura colpito dall'emergenza Covid-19 custodiamo la cultura in Puglia. La dotazione finanziaria è rivolta alle imprese dello spettacolo dal vivo diverse dalle fondazioni lirico-sinfoniche dai soggetti di interesse regionali previste dalla legge regionale numero 6 del 2004. I beneficiari del Fondo Unico dello Spettacolo con sede di esercizio dell'attività nel territorio della Regione Puglia saranno sostenute con risorse a valere sul bilancio autonomo regionale per rimediare al grave turbamento dell'economia causato dalle pesanti restrizioni imposte. La delibera presentata di comune accordo con il Vice Presidente della Giunta Regionale Piemontese ha come obiettivi primari la tutela dell'occupazione e la garanzia della continuità progettuale per le realtà territoriali d'eccellenza nell'ambito degli spettacoli del vivo ha dichiarato Massimo Braia, Assessore alla Cultura. La Regione Puglia, in linea con le strategie del Ministero della Cultura, prosegue l'Assessore, intende con questa misura sostenere le produzioni artistiche e la loro programmazione. Un impegno dovuto per un settore che, come altri, risulta essere stato drammaticamente vessato dalle conseguenze della pandemia. Ad ora ci spostiamo in provincia per parlare di cronaca perché a Doria c'è stato un intervento dei carabinieri forestali, rifiuti pericolosi accatastati in un terreno, sequestro da parte dei militari, neguai il titolare di un'autofficina. I particolari nel servizio di Andrea Contaldi. Nell'ambito dei controlli pianificati presso gli esercizi di autoriparazione, i carabinieri forestali di Ceglie Messapica hanno rinvenuto pesanti violazioni alle norme ambientali in un'autofficina di Oria, pochi giorni dopo un episodio simile accertato a Sandonaci. Questa volta i militari hanno riscontrato che all'esterno del capannone di lavorazione dei veicoli, in un terreno di pertinenza, erano stati accatastati e abbandonati rifiuti di ogni tipo, rivenienti dall'attività di riparazione. Una cisterna contenente olio lubrificante esausto, pneumatici fuori uso e su un'area più asta e pavimentata in cemento e con muri perimentali in tufo, altri quattro fusti metallici contenenti olio per una capienza di 200 litri, un bidone ricolmo di filtri di olio per auto, dischi di freni, batterie esauste, ammortizzatori e rifiuti ferrosi vari. Il liquido nerastro in particolare colava attraverso le fenditure della muratura per infiltrarsi nel terreno agricolo adiacente. I carabinieri forestali hanno sottoposto a sequestro preventivo penale sia il terreno sia il locale murato con tutto il loro carico di rifiuti. Il titolare dell'officina, un uomo di 46 anni, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Brindisi per gestione non autorizzata di rifiuti speciali anche pericolosi. Trattandosi di rifiuti in parte pericolosi, il trasgressore non potrà beneficiare del regime di favore introdotto dalla legge numero 68 del 2015 e in caso di condanna sarà soggetto alla pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, oltre che al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.600 a 15.000 euro per omessa compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti e naturalmente alla bonifica della zona di accumulo con smaltimento regolare dei materiali ed eventuale risanamento dei terreni inquinati. Ad ora parliamo di efficientamento energetico, un progetto Interreg Italia Albania e Montenegro del quale il Comune di Brindisi è capofila. Parte il progetto CoClean finanziato dal programma Interreg IPA Italia Albania Montenegro 2014-2020 con un budget di circa 693.000 euro, progetto che mira a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle aree coinvolte attraverso la realizzazione di azioni innovative e consolidate, formazione ed attività di sensibilizzazione. Il Comune di Brindisi è capofila del progetto che coinvolge in qualità di partner anche il Comune di Racale, il COSIB, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, Molise, il Comune di Valone in Albania ed il Comune di Berane in Montenegro. Il progetto prevede per Brindisi l'efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo Sant'Elia Commenda. Inoltre si propone di creare una comunità energetica composta da cittadini e piccole e medie imprese di attuare misure di efficienza energetica sugli edifici pubblici, ancora di realizzare un festival dell'energia per sensibilizzare cittadini e stakeholder all'uso consapevole e responsabile delle fonti energetiche e di realizzare un corso di formazione transfrontaliero per dipendenti pubblici con l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo delle rinnovabili in Albania, Montenegro, Molise e Puglia. Allora lo sport con il calcio è in primo piano. Le questioni che riguardano il Brindisi, la presentazione del nuovo allenatore Michele Cazzarò che crede che la squadra non meriti l'attuale posizione in classifica, lo abbiamo ascoltato noi di Studio 100, sentiamo. Michele Cazzarò, ufficialmente il nuovo allenatore del Brindisi. Mister, cosa l'ha convinta ad accettare questa sfida difficilissima? Ma sì, diciamo che non è facile, però sono abituato, ormai dico a tutte queste sfida difficili, cosa mi ha convinto? Mi ha convinto la piazza, mi ha convinto la piazza perché merita rispetto, perché è sempre una piazza importante e ti dico la verità, anche la squadra perché la squadra è composta, non è giusto che stia lì. Ha avuto modo di vedere qualche partita? Sì, sì, dico io ho avuto modo di vedere qualche partita quest'anno e ti dico per questo ti dico che secondo me non è giusto che stia lì, poi sai, andare a cercare sempre che cosa è successo, per me è difficile. Una situazione difficile in un campionato senza precedenti per difficoltà, difficile rispetto a tutti gli altri campionati di serie, di come si esce da questa situazione, considerando soprattutto che il Brindisi ha perso gli ultimi scontri diretti, in particolare con Portice e Franca Villentini. Si esce prima con la testa, dopo si esce col cuore, dopo si esce con tanto lavoro, io ti dico che solo questo conosco, poi sempre la barchetta magica non è che ce l'ha nessuno. L'accordo è fino a fine stagione? Avete avuto modo di parlare anche di possibili novità di mercato, modificano? Come dicevo prima, quando mancano sette partite ancora sta a pensare il mercato, vuol dire che non si ha bene in mente che cosa sta succedendo. sta succedendo che noi ormai ci troviamo dentro quella posizione con il secco di mano, non si va da nessuna parte, bisogna lavorare, punto e basta. Quanto crede in questo servizio? Tanto, se no ti dico la verità, nemmeno sarei venuto. E tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, ha curato la parte tecnica Alessandro Colavito, adesso la linea torna a Taranto per 100 notizie e il fatto. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti.